... Occhio alla palla, Lee Sin! Oh, scusa. Ecco l'estetista per la mia sessione di abbronzatura. Che paura, Lulu è una farfalla. Ascolta, Malfite, hai rotto il sasso. Ehi, Maokai, dimmi un po', in che cortile sei nato? Pensa, Maokai, potresti essere la panchina. Di cosa sei maestro? I? Dell'imbarazzo? Nocturne, ti mando in paranoia. Non mi fai paura, Nocturne. Piuttosto mi causi sonnolenza. Eh, ti ringrazio, Rianna, ma... ho già un pallone. Appallottolati ancora, Rammus. Sarà più facile schiacciarti. Dai, un po' di vita, Sion... oh, scusa. Sona, questo è il suono del tuo fallimento. Eh, puoi alzare la voce, Sona. Non ti sento. Volevi una stella, Soraka? Eccomi! Sei tanto bello quanto bravo, Trandol. Udyr, quattro posizioni, zero stile. Mamma mia, quanto sei goffa con quei guantoni, V. L'unico sangue sul campo sarà il tuo, Vlad. Facci vedere la moviola, Zilean. Vai a casa, schiappa. Gli autografi a fine partita. Non ho bisogno di un fischio per sapere quando iniziare a dominare. Le profezie delle schiacciate erano vere. Darius è qui. Ho un master in salte e un dottorato in schiacciate. Ho l'impressione che tu non sappia come si schiacci. Solo schiacciate dal nexus alla tua faccia. Ogni corsia è la mia corsia. Darius sa come schiacciare. Darius sa come schiacciare. Schiacciare non è facile. Guarda che palleggio. In che senso passare? Sono tutti riflessi. Schiaccio per la gloria. Non do il cento per cento. Lo prendo. Vale tutto se l'arbitro non vede. È tempo di giocare. Non ho bisogno di esercizio. Le regole non si rompono. Si schiacciano. Poiché sono un genio. Io gioco sempre in casa. Quando hai finito di allenarti, ricomincia. Io non gioco le partite. Io sono la partita. Non vedo una squadra, ma solo panchinari. Non c'è una I in squadra, ma ce n'è una in Darius. Qualcuno deve ricoprire il mio ruolo. Io, ad esempio. Sbrighiamoci a vincere. Sostituzione veloce. Il gioco riprenderà appena torno. Torno subito. Chiamate un time out. Idratarsi è importante, gente. Rimettimi in campo. Quindi è questo che si prova a stare in panchina. Indietro. Attenti. 3 e 60. Aggressione totale. Indovina a chi piaci. Fatti sotto. Vieni qua. Dove scappi? Cosa fai qui senza il mio asciugamano? Ho una vagonata di schiacciate, tutte per la tua faccia. Tornatene a casa. A piangere. Che schiacciata! Guarda su! Boom! Soraka laka! Mamma, butta la pasta! Bam! Giù nel canestro! Boom! Ho visto l'uomo che vola! Eccomi! Ci vediamo! Sì! Ruki! Schiantato! Vedrai l'intero campo. Il segreto di Noxus è la mia visione di gioco. Ecco qua! E non dire che non aiuto. Fai sul serio? Lo sai chi sono io. Passerò alla storia. Tu giochi, io vinco. Sono qui per schiacciare. Sei la mascotte? Il talento fa vincere. Punto. Capita a tutti. Ci vuole il fisico per questo gioco. Vinci o vai a casa. Sembra facile, ma sono semplicemente bravo. Va bene aver paura, visto che sei pessimo. Il mio punteggio parla da solo. Cosa ti è sfuggito? Velocità. Occhi sulla palla o sulla tua faccia. Non odiare il giocatore. Odia te stesso. Vincere è semplice, se ho io la palla. Vuoi rivederlo al rallentatore? Magari capisci. Magari capisci. Di chi è questo campo? Mio, ovviamente. Schiacciate in regalo per tutti. Scarpe importanti per una persona importante. Dovrebbero pagarmi per indossare queste scarpe. Noxus Air, l'unica marca che uso. Non sono le scarpe che fanno l'atleta. Se ti piacciono le mie scarpe, ti posso far vedere la suola da vicino. Vedrai come ti starò vicino. Marcatura uomo. L'intervallo di oggi è offerto da martello ghiacciato. Potenza da brivido. Infinite schiacciate in arrivo. Io scelgo Gladio dell'Infinito. Per una rasatura perfetta. Forza, fatti sotto adesso. La partita si infiamma. Più nemici, più fiamme. Pensavi fosse già abbastanza caldo? Massacro di schiacciate. Sputerai sangue, per averla. La chiamerò Gladio della schiacciata. Fame? Idrafamelica. Energia pura, senza carboidrati. Marcate mentre, così risparmio tempo. Questo massacro è sponsorizzato da Idrafamelica. Schiacciate triple, mi piace. Forza della Trinità. Quando le prestazioni incontrano il lusso. Questa schiacciata è offerta da Forza della Trinità. Omen di Randuin, ispirate chi vi circonda. Attorno a me tutti si muovono al rallentatore. Puoi provare a scartarmi? Prova, dai. Metto il Mortius dove sono le tue fauci. Fagli pensare che sei finito, poi schiacciali. Io sono l'unica magia di questo campo. Nessuno vuole giocare con te, Amumu. Te la do io una ragione per piangere, Amumu. Amumu, è vero che ti si può acquistare in pacchi da nove? Che schifo! A giudicare dalla tua faccia, Brand, ci siamo già incontrati. Prova ad arrestare questa schiacciata, Caitlyn. Sei pallida. Hai bisogno di ferro. Ehi Draven, mamma ha detto che sei stato adottato. Mundo va, dove gli dico io. Dai, Mundo, torna a casa, che è meglio. Mmm, bel guanto, Ezreal. Dimmi, lo fanno anche da uomo. Fidelstix, assorbi qua. Soffrirai il mal di mare d'ora in poi. Bel 360, Garen, ma non mi pare ti sia servito a molto. Non ci credo, state facendo sul serio. Oh, scusate, non sapevo fosse una partita del cuore. Toh, un dilettante. Dovresti trovarti un lavoro vero. Onestamente, chi ti ha fatto entrare? Ecco un buon candidato per mai dire LOL. Qual è il tuo ingrediente segreto, Gragas? Fallimento? Apri l'ombrello, che piovono schiacciate. Occhio alla palla, le... ù è, bambi, buon candidatoi, cko alla palla, le... Grazie a tutti